Il calendario riserva un'altra trasferta, questa volta ad Ascoli. Nell'occasione Piacenza dimostra di essere la vera squadra guida del campionato. Bastano infatti pochi minuti per dirimire la questione di giornata. Inzaghi fa la lepre che beffa il cacciatore. De Vitis corona, da uomo caparbio qual è, una originale creazione di Moretti.